quella rilanciata al tutto sport una vera e propria notizia bomba per la juventus perché questo processo che vede coinvolto la juventus coinvolge la juventus a 360 gradi e ha a che fare sul futuro condiziona evidentemente il futuro di vento sia per quanto riguarda i giocatori che per quanto riguarda l'allenatore ma anche i dirigenti è la notizia che rilancia autosport davvero importante scopriamo il dettaglio di che si tratta scopriamo il dettaglio perché questo questa decisione il collegio di garanzia del coni e tutte le altre possono condizionare la scelta del nuovo di esse ma andiamo con calma e sviluppiamo il tutto io vi ricordo come sempre che qui se facciamo sport trovate costanti aggiornamenti sulla juventus quindi mi raccomando iscrivete al canale attivate la campanella e supportateci con un semplice like e allora atletico madrid juve ci sarebbe un asse di mercato che vede coinvolta la juventus ma attenzione al nome che viene fuori oggi il tutto sport infatti rilancia con andrea bert ds italiano del dell'attretico di madrid che può diventare a sorpresa il nuovo ds della juventus andrea bertha bresciano è ormai in spagna da oltre dieci anni è fatto il grande salto dal dal parma genua poi va nel 2012 anzi 2013 all'attretico madrid grande salto li fa due finali di champions grandi acquisti grandi colpi di mercato ecco che la juventus sarebbe pensando a lui perché la juventus in questo momento è una di quelle fasi in cui sonda ma non può bloccare niente e nessuno né giocatori né procura né dirigenti perché questo perché sta cercando di capire come andrà a finire il il discorso relativo al processo plus valenza e quindi se dovessero essere tolte l'inibizione dei dirigenti cherubini potrebbe rimanere fermo lì e tranquillo come ds se però dovesse essere confermata l'inibizione a cherubini ecco che la juventus dovrebbe inevitabilmente intervenire e se qualche sondaggio è stato fatto già con massara di cui abbiamo parlato ci sarebbero addirittura stati degli incontri tra la dirigente gioventino e massara per capire quanto si potrebbe quanto potrebbe essere vero questo possibile addio col milan ecco che l'altro nome che si sta facendo e che secondo tutto sport sarebbe abbastanza importante è quello di bertha tra l'altro parla tutto sporto di un coinvolgimento juve atletico che vede coinvolta appunto non soltanto bertha ma eventualmente anche la sezione legata ad alvaro morato giocatore di cui abbiamo parlato un giocatore che potrebbe tornare juventus e che vorrebbe tornare a torino sarebbero diciamo lanci sarebbe lanciando segnali da vari da varie sponde per poter cercare di tornare a tutti i costi a torino perché è un giocatore che a torino si è sempre trovato bene in spagna l'ultima esperienza non ha trovato diciamo delle situazioni di lia che tra l'altro secondo me questo è un ulteriore conferma del fatto che a torino dovrebbe rimanere allegri questo potrebbe essere un ulteriore indizio perché se abbiamo parlato del rinnovo di alessandro che potrebbe essere una scelta proprio di allegri se abbiamo parlato di rabbiò che sta che sta valutando anche perché c'è allegri come allenatore che lo ha rilanciato ecco che morata potrebbe tornare ventus anche per allegri direte voi perché con un altro allenatore non tornerebbe sì probabilmente sì però sapete quanto rapporto c'è tra allegri e morata e quanto allegri ha fatto di tutto per poterlo trattenere la scorsa estate perché lo voleva lo voleva fortemente ancora la juventus perché sapeva che con morata si poteva sviluppare meglio anche il gioco di vlauic vi ricordate il vlauic che è arrivato lo scorso anno è un vlauic che magari aveva la pressione un po meno su di sé magari anche un po più su morata morata riusciva a aprire degli spazi che poi invece quest'anno il buon dusa non ha trovato proprio per l'assenza di alvaro morata è un morata che tra l'altro secondo me in questo momento si sta muovendo non soltanto lui ma anche altri o meglio anche i suoi diritti i suoi procuratori perché in questo momento morata viene affiancato a tante squadre la juventus prima di tutto ma soprattutto la gazzetta ha parlato anche di un morata che potrebbe essere nel mirino del milan che sta cercando un attaccante perché con i brai moch che non è esattamente un ragazzina con shiru che comincia avere primi acciacchi dovuti all'età ecco che morata potrebbe essere un'idea per l'attacco del del milan e questo colubbio verta morata potrebbe essere una soluzione per la juventus cioè lo soberta che fa in modo diciamo di parlare lui stesso con l'atletico per poter prima portare morata la juve poi lui stesso andare alla juve ovviamente sempre in attesa del della decisione del collegio di garanzia del coni che può in qualche modo spostare l'attenzione io vi dico tra l'altro si si parla tutto sport parla addirittura di un morata che si sente quasi giornalmente addirittura si parla di chat di su whatsapp di gruppi su whatsapp in cui c'è lui insieme ad altri come quadrato pinsoio fagioli lui grande amico di fagioli e lo stesso fagioli starebbe cercando in qualche modo di puntare al suo ritorno perché i due sono grandi amici proprio dei tempi da juventus tra l'altro altra situazione è legata appunto all'arrivo di depai con il ciolo simeone che diciamo ha messo un po a rischio la titolarità proprio dell'argentino e pardon dello spagnolo spagnolo che però tornerebbe alla juventus ma il nome su cui ci dobbiamo focalizzare è proprio quello di bertha 51 anni abbiamo detto che ha portato l'atletico a vincere praticamente tutto due lighe tre europa league supercoppa europea supercoppa spagnola coppa del re e poi è arrivato due volte in filale di champions molti sicuramente qualche anti juventino dirà perfetto per la juve visto che fa solo le finale ma poi le perde ma al di là di quelle un dirigente che si è mosso sempre con molta attenzione anche per quanto riguarda dei giovani interessanti quindi a tattetico sono arrivati sempre dei giocatori interessanti ma anche futuribili staremo a vedere anche perché la juventus in futuro dovrà assolutamente affidarsi a gente che di capito di calcio ne capisce e che sa muoversi anche senza cifre astronomiche perché poi fondamentalmente quello ad esempio il napoli di giuntoli ha spiegato all'ultima sessione di mercato come ci si muove con un calcio sostenibile cioè sfruttare assoluta un po quello che fa ad esempio il sassuolo cioè sfruttare che cosa le ingenti somme che arrivano dall'estero soprattutto alla premier league e quindi cosa fa ti vende a quasi 50 milioni cali du colibali che ormai è una fase della sua carriera calante e quindi se non è il meglio lo ha già dato e cosa fa quindi te lo vende però cifre importante perché il celsi 50 milioni per cali du colibali te li dà così come nomino il sassuolo perché il sassuolo è la società che in pochi mesi ha venduto per 35 scamac tra ore e altre quasi 35 quasi 70 milioni di euro due giocatori assolutamente sostituibili e cosa fai quindi sfrutti questi soldi arrivano alla premier per poi reinvestire ma con uno scouting fatto bene quindi il napoli per esempio cosa fa prende questi 40 50 i colibali e ne spende 10 per per caraschelia altri 15 per kim fa delle operazioni importanti con un calcio ripeto sostenibile questo lo puoi fare quando i giocatori che proprio perché magari vengono a juventus sono abbastanza diciamo hanno un valore importante ma poi devi andare su altri nomi che non sono conosciuti da tutti e quindi iper valutati ma dei giocatori che devi andare a scoprire dei giocatori che devi in qualche modo scoprire tu e svelare al mondo del calcio è chiaro che ora è facile fare i nomi di caraschelia e di kim giocatori che fino all'estate scorsa erano semi sconosciuti oggi sono dei pilastri della serie a però è quello il processo da seguire ecco nomi che non sono in voga che non sono come direbbe qualcuno in hype ma che però poi ti trovi in casa ed è tanta roba morata tra l'altro parlare tornando discorso di morata morata un contratto di scarsa il 2024 e dovrebbe essere diciamo potrebbe essere un ritorno io ne ho già parlato proprio ieri ho parlato di una situazione legata a morata che potrebbe essere arrivare al posto di milic però io temo che morata possa arrivare anche al posto di vlog io francamente non andrei incontro a un ritorno di morata l'idea invece di di berta è affascinante perché è un dirigente che ha visto come ci si muove in ambito internazionale quindi mi piacerebbe una soluzione totalmente nuova per la juventus e secondo me l'altetico di madrid ha fatto un buon lavoro in questi dieci anni perché abbiamo visto l'evoluzione che ha avuto l'altetico di madrid negli ultimi anni quindi è un'idea che mi affascina questa si quella di morata francamente no io l'attacco credo che sia già a posto così io più che un morata andrei sono attaccate di assolutamente diverso